Allora, stazzi, buona panza a tutti ragazzi, è venuto in questo nuovo video del video show Oddio cancaro Eccoci qua su una one for all, modalità per messe Fulekka rincontro, Fulekka rincontro, Fulekka rincontro, Fulekka rincontro, sarà un game di quel di... Dio, Cristi, ci ripulisco Non credo, perché noi gli entriamo dentro di ignoranza e tra copia Ma io, ma io tipo li show Questi flash hanno via tutti i guanti Sì, ma siamo in cinque, siamo in cinque, hanno un flash a testa Due Quindi, cioè, ne hanno due, noi siamo in cinque, mi sembra un po' Fulekka rincontro, Fulekka rincontro, non li ritroviamo più a questi Basta ultare e ghostare Sono l'unico fesso con la skin Sì Perché Skull non ci compra i boost skin Fuck you Senti, non c'ho gli RP per farlo, ok? Sono un povero Allora ti riporto e via Io prima l'ho preso il boost skin Comunque siamo... Io Fede Dio Kankaro Scusi Dio Kankaro E Dad Copiare le battute, ti faccio magari il copyright a furia di skin E Dad ride E poi c'è Akio Kamao Che non so chi cazzo sia Dadi, cambia di quello schifo di nome Sì, in effetti Sì, in effetti Ma rimane, stronzo Sono l'unico skinnato, porta rispetto, sono io e il capitano qui in mezzo Sì, ok, pulizzo Io ho schifato anche con il coso sopra Io ricorderei il game count che abbiamo fatto contro i Quei Teemo Hanno focussato tutti quanti quello con la skin Buona fortuna Contro Quei Teemo o con Quei Teemo? No, con Quei Teemo Quando abbiamo giocato di Teemo Hanno focussato tutti quanti quello con la skin Cioè Dad Quindi buona fortuna, Fede Ho la ulti solo per fuggire No, 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 no Come back as fuck Comunque full e karim Adesso mettiamo io lì, sono top Io sono full up Io sono full run Oh, questo qua Sono big Listen mental experience Il cup Ecco Non ci sto già capendo più un cazzo Non mi fa farlo E fa sparire cose sopra la testa E mi fa hou Andate spammerà tutto il game, lo sappiamo già E ho sparato tutto il game, lo sappiamo già Ragazzi, 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 arriva la cavalleria la riga non lo colpo arriva ma la paranda per il fede fede insieme pronto ma lo spazio è vero 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 vieni anche tu dalle vai cavalleria 20 e no ma io non ce l'ho sei una sega questa è tutta di q come tutti stasano di q non è stato per cui sei api ma no anche la coppia stacca su api io l'ho detto prima che stacca su api per la certa stacca la roma della pia stelle che sta piena insieme a lei ok ragazzi questa procura troppo poco troppo 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 e come se io sono il solo lei in una situazione adesso le prendi vale pure raga io vado full armor c'è tipo no fuck even oh fuck oh è dolce di affartare la storia sick dodges oh marca bruttana questi genitori per cazzo ah è add questo coso non è la meglio api contro madonna io l'ho detto è una brutta scelta su musica roma 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 volevo mai cari mai volevo prendere gp neva 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 io volevo andare di all'acca babb roba alla kebab e non ti ho scambato dalla arrasso e di loro proprio per un po' loro arrasso non bene vaffanculo non giocato il cazzo tu sei morto e adesso se non sto attento muoio pure è appena morto no voglio metto così e metto le cose qua allora display no perchè si mette quella roba del mano ragazzi notti non ho cazzo da fare qua eeeh boh non me lo ricordo il coso del mano coso del mano cosa quello che lo puoi vedere sotto la spella e cazzo vai in interfaccia no boh mi metto ingaggia cattivissimo e ci muore perchè devi ingaggiare no 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 qualcosa già 3 che cazzo percorso non ho sottato no non riesco a formare non voglio portare mi vuoi portato porto ok 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 ora fatemi mettere qualcosa che mi qualcosa mi dice che che qualcuno sa fidando no su cosa devo mettere scusa su cosa devo metterlo su interfaccia su interfaccia ma dai vato ma dai vato eh z boom l'ho calciato via a calci dai va e mi son trancato la torre a random non si sa per quale motivo cazzo cazzo ma sono tutti ap questi ah no due ad due ad e tre ap io sono l'unico che fa ap è normale sia un fesso ma ap è tipo shot di ulti che cazzo vuoi che shot di ulti scala un cacchio cazzo cazzo per aver visto dici tu dici per il 100 per cento della p no guarda guarda roccio patologico no no o per per 4 per l'ho usato il clanzo avrato un tipo no 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 sei un grey mi sta shot in ap perchè allora le film le faccio io perchè me le stiamo con la w io vado bello tankoso mi faccio full armor vediamo chi vince full armor? io mi faccio giusto un po' di armor ma sei ebreo o cosa? sto arrivando no 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 ma io ti dico appena faccio il 6 porca puttana non ci vado vogliono il mio culo io appena faccio il 6 vado di ignoranza eh comunque tu qui 5 3 secondi fa avevi usato la e quando abbiamo fatto la kill spazio e me l'hai tolto dalla mia no 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 io penso che ancora alberto no 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 ms. coglioni aspetta che faccio il 6 che li scottiamo cazzo uno dei due ce l'ha volti ah ce l'ha volti finalmente vai 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 a me manca poco senta fia un'altra parte in cui un r guarda qua e tutti e due popolo fatti ma caputano fanno male si mario provera la scelta uo io l'anzo tra potenza aspetta per pericolari no ma non è giusto perchè non stai staccando armo 2 tu non fai guardando sto parata in questo momento no tu non devi farlo no amatona e ha un altro non lo so scappa ma intanto guardiamo un po' di altri, vediamo fede fede sta andando è al 6, fede al 6, fede al 6, ci prova fede va qui non c'ho ulti, te sta di cazzo sono in due senza ulti entrambi sono entrambi senza ulti, ci provano su Ezreal, su Ezreal tentano Ezreal, non ce la fanno scende anche Oki, cazzo si chiama sono in 3, sono in 3 mid, riusciano a farcene Ezreal cazzo occhi tasca vai si fanno lezze e la maduna buongiorno oh Ezreal no non fate una trucca da me oh fatti oh fatti oh oh o mattia rimanili mattia rimanili mattia rimanili mattia rimanili 3 4 4 mattia arrivo mattia arrivo mattia arrivo mattia arrivo oh cazzo questo sacco wiiiiii non so oh 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 sono fregato la prossima volta non ti salvo più le chiapte scuola punto è che zile lo puoi fare sia p che a d loro lo fanno un po' a metà noi invece possiamo farci solo a d a parte scuola che è stupido la difficoltà di questo game messo video e l'ultimo posto pacchetti idem per l'unico stupido che sta andando a piccola storia se si vuole scuola stile a 4 2 3 2 è solo un'unico raggi è il tipo anche a chioccioso l'uomo senti oltre all'argomento di pari l'agenzia buongiorno non fare un'altra parte saranno posto posto quando sto arrivando sto arrivando sto arrivando italia papa 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 buona dole che danni fai l'attento shotto prende 100% dell'app balanze pusha ma col cazzo c'è arrivano 5 ulti adesso no, l'hanno appena stata un'altra senza mano this one squam is real react ok, è tipo africano questo tipo di cazzo mio scappo e recallo guardo mica succede quel midlay production oddio, oh my god over the wall bitches sapete fare questo con hecarim? no no ma non è un problema wow, rect comunque pochettano la ulti c'è un cooldown della merda si boh ma e capisce perché fa schifo questo si fa boccare tranquillo tipo io 2 io 2 0 bot help me blocks vai ninja vai ninja focus la torre oh, qui ci sono 3 spaccato bella 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 ritorno per il terzo posto hai la ulti te la vedi non lo so sono tutti ecarim cazzo ne so io vedi su ecarim in effetti mattierano a tutti i torti questa volta cazzo sono tutti ecarim è ovvio che non riesco a vedertela ultimo IGNOLANZA ULTIRANDO 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 ARRIVA NINJA DI NUOVO A DA GANDOM e si fa la kill let's get the triple ma c'è una quadra in mid ragazze quadra ce ne abbiamo fatti fuori su due non imbott 3 imbott 3 imbott 3 imbott 3 imbott 3 imbott 3 imbott ti consiglio di stare attento alle ulti hai ragione anche te hai ragione anche te no che bastardo mi ha tolto mi ha tolto le scarpe e2 e2 ecco la seconda eh dove è la terza e non lo so eccola è passata no la seconda era quella la seconda c'è un posto ancora fare lo streac lo streac lo streac lo streac in the game ah è vero ci possiamo fare un break i zizi i zizi un par di balle guarda la qua ho ce l'ho c'è un ed c'è un ed anche l'attore ragazzi quanto mi manca le ulti? noi non abbiamo un ulti io ce l'ho tra 5 secondi io ho 16 minuti 31 9 school quando ti dico ulta oh cazzo ron 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 gli ho smaltellati eh arrivo arrivo anch'io adesso 5 ultimi aspetta 7 secondi 5 4 inizio a ingaggiare 3 arrivo arrivo mio 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 che 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 non sei non è come è vogliono e carimmo non ti diverti ah 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 oh ma che cazzo 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 ah 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 E siamo... What the fuck? Oddio l'abbia presa! Oh zotta! Vai 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 vai! Oddio! Che cosa bello a rubare le persone? Ma... Hisかし... E questa è la cavalleria! No ma... è troppo stupido! Tu chiedo tutto... In che caso è scriva? Alla faccuno non lo scrivo... Non lo scrivo, non lo scrivo! Guarda parmi il blu! Ciao! Mi serve! Alla piccare! Suca! 10 secondi ragazzi 10 secondi tranquilli non preoccupate 7, 6, 5, 4, 3 andate andate ma c'è Adriel ma perché sono così grosso e poi c'è lui e non dice un cazzo a niente eh io l'ho pingato ragazzi perché è successo è lo xera quello che ti sei comprato cazzo ti rende più grosso non sai nemmeno che cos'è no non sapevo questa spell è la passiva oddio c'è da oddio 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 5 nocce oh fuck oh fuck ho dodgiato 5 ulti che scava sul canale 1 e 2 la carica anche su tipo i epic ma qualcuno vieni qua piccolo vieni qua piccolo Edel questa come mi sono strappato le chiappe ciao Dade ciao Dade ciao Dade ciao Dade e aspetta che eravate poterciarli ma capisola come mi sono salvato le chiappe ma tu hai visto come hai trovato i cinque ulti ho dodgiato entri guarda mi sto dodgiando tutto eh eh sono una guarda sbagliano qua vado sbagliando di tutto minchialo tu 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 fate il cesso quanti nei sete non mi sono salvato il culo non so neanche io boom con un basic attack adoro il live stream di W lo amo no eh sposa te lo chiedi odi e lei me lo sposo lo metto e voglio che gli facciamo per il culo chiedo si scusi si scusa madre sono frocchio no è la capace scusami madre sono frocchio uguale cioè non mi ricordi tutti non cazzo vabbè oh eeeh eeeh la madonna ciao ragazzi livello 2 dell'ulti shh 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 aia ok non ho preso mai ok non ho preso mai vediamo finisce di farsi boccare vede in questo vabbè dove cazzo è arrivato sono in mezzo a 4 ciao 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 ne ciao ne ciao ne oh i'm coming for this alla prossima oh 여 io mi salvo, io mi salvo, io non muoio io non muoio perchè hai ancora ulti? perchè non l'hai usata prima quella cazzo di ulti? perchè sei morto e l'avevo in cd perchè sei morto? perchè sei finita? ah ah mi faccio anche un po' di magic reverse for capitana fanno troppo d'anno sti cosi io sto facendo la 3d ti voglio dire ma dove mi ammazzano più dopo e dopo la 3d mi faccio anche la black cleaver ma a me non fanno tanti danni alla fine, il problema è che c'è 5 ulti e sono sempre 5 ulti è la stessa build che mi sto facendo io, 3d e black cleaver eh ma io ero stai racconto anche boom e di shot se li becco li faccio la luce si ma non tanti un cazzo por cacchio cazzo se ne frega di tankare a me basta vuoi shootare andare via ciavone chiuso leur e poi non possiamo pushare esatto se non facciamo tipo delle kill non pusciamo cioè guarda quanto hanno smezzato parla top éléments epic aag Ciao piccoli Ezreal, ciao piccoli Ezreal, sto arrivando io da dietro ragazzi, 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 sto arrivando da dietro boh, 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 bo appartamento si è fatto come diciamo che c'è leggermente trovato ciò che ti stanno per date col tp date col tp sei pronto aspettali non ho l'ultimo non è l'ultimo il posto rossi porto alle altre stanno bene ci vado io in realtà canto la 2 1 altetta c'è il tp c'è il tp 2 1 1 2 2 sei dopo il posto la tex e di specie per il tempo mi mi aiuto 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 vieni via vieni via vieni siamo qua 3 karim 4 secondi alla ultima 10 10 10 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi la passa io sto tancando l'infinito or cacchio quale sono io mi sento io coi ah 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 mi serve io bella mano qua non c'è arrivò e ho capito faccio piano quel double buff sta facendo l'intera mappa si si è una puttana praticamente ho danni 10 di attack damage in più il mio dopo mi faccio la spirito di 6 3 5 4 3 2 1 zonio 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 6 5 7 10 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 è morto è morto è morto è morto è morto date fatti la spirito e visite fidati che quella build diventi gesù io ragazzi ando full time cioè l'unico danno che mi faccio è quello che ha fede che lo rende grande e grosso e brutto no fatti la guaranza dell'uomo morto è meglio ce l'ho già no voi non avete capito niente io vado io lo puglio oltre a partito poi l'uomo fatte la spirito fatte la piazza il problema non posso toccare la tour perché spavano troppo volerci consigliate il film il pubblico il pubblico il pubblico il pubblico il pubblico non non io ho l'ho gioco io ho formato io ho formato lezze di alibot no mattia che vieni con me no fai parere il pubblico al pubblico cazzo e baffè questo o o o o stanno venendo un po' di azione alibot in botto o in top in botto allora potete regli ma ciaoone e io ho gritto si si dai vai vai no cazzo cazzo madonna cosa ha f***o male mi stanno cercando mi stanno cercando male ma è un peccato se ti critto muori school e male anche quanto costa 1190 ok oh cazzo d'accordo kill me please non np np non vedo che io sono chiunque non vedo che io sono chiunque io prendo assist a caso ma è giusto così perché ci sono dei migliori rossi nella nostra giungla perché no fatti questa domanda perché non dovrebbero esserci una bomba è super lollosa sta cosa c'è veramente che carina c'è chi sta cesare non ti mollano no e carino albicino mettete una volta da qualche parte test o io faccio un gancho per dubbare per l'alaterale del dietro bull qui io non si può essere arrivato bubububu raga dai dai dai, tutto panco tutto vaga dai tanco tutto tra tanto tutto si fa a te le semplice guarda quanto ignori e mouth fuggite sciocchi umani se ci tenete la vostra vita sei morto ok no scusi io un po' così facile da ammazzare che è ragazzo ritenne scherzando cosa sta succedendo quella si sta tipo avendo l'orgasmo non si sa dai io non andrei che tolto io non voglio creare no la momentissima che ho scelto ragazzi rende scherzando quello più avanti di bide l'ho no martino sanzino io mi sto chiedendo il porto a te 1 2 3 3 3 io sono già messo più che bene con il quarto item ss e io mi mancano 600 gold per il quarto item 500 gold se io non lo sto messo un po' di più io boh ma comunque c'è qualcosa ragazzo tra i te però e e oh cacca ma se io e school arrivassimo mid con una tal ignoranza per cui l'intero mi ha fatto la cota la cazzo la cazzo la cazzo la cazzo la cazzo la cazzo sei da solo lol 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 that crit tipo te lo sei così vuoi esattato con quel crit e basta i'm out no dad no dad non sai usare l'ultid lol il problema è lui abbiamo capito chi è da focussare cosi sono tutti da usciare no a quelle cose che danno dd. fate di brutale adesso non è lui sono gli altri ricordati tranquilla ci costiamo lei trova sempre a porto per spiegare quindi direi di fare proprio una carica del mito ignorante tracotate tutti e cinque insieme si adesso lo facciamo bella black clip tanto sono tancato quanto lo schifo l ma non fai danno mattia sono full tank ma perchè tu non sei e tango più io che lui ooooh 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 anche più tu è molto più vedi che quello che fai danni allora aspetta voglio voglio ruppare quello di vero 4 lui no quello 17 quello che fai danni e lui quello che shotta gli altri non ce ne diciamo un cazzo a noi effettivamente ok allora provo a rupparlo dai appena mi si attiva lo speed dei buzz magari ok pronti un uomo l'uomo no quello quello fa i danni non lo voglio quello la porto what non ho potuto usare la zona quello li ho detto non te lo fai uh 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 quel lorto 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 oh mio dio i'm out raga mattia follow me follow me ok via finito lui e non ci hanno più danni fanno solo degli slow una ward mattia una ward lorto 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 sepparmente schifo che nessuno la vuole sott o io lo so per scappare ma vabbè dai lorto 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 50 più 373 lorto per considerando che ce l'ho perché spesso lorto lorto il team no ma s 8 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 il terreno per i miei del piedi del soddisfatto che ci sono arriva anche dietro coso? ho messo 8 alzate a parte del pacco un'aterale dietro proprio ragazzi matti appena ti passo accanto tu vieni dietro faccio vabbè ho capito che fu è morto raga dietro l'uomo l'uomo un'uomo un'uomo barba rosa che piccola cpc anche io il tp anche io che mi sono posto per favore uno bus e l'altro al bar e io puro stai ma c'è un errore del cui vuoi un uomo un uomo erb un 4 4 5 5 6 6 6 6 9 7 7 8 8 8 raga è bruttissimo del bacio 8 8 8 8 anche cazzo c'è uno stilato un po' e buffoni che siete erano 1 6 veramente solo non 6 allora ci siamo fatti il break 3 3 il loro baron eh vabbè a noi glielo vediamo il baron si molto easy anche guarda il tempo di livello allora poi cazzo nel quattro ti rischierai sei morto dei nostri Lui è quello che fai danni Lui è quello che fai danni Giù lui vinto il fight Giù lui vinto il fight Giù lui Raga sta toccando di tutto Io devo andarmene via Io me ne sto facendo 2-3 Eh ti stanno arrivando gli altri due Eh ascolta noi siamo andati su di lui Io non sono tempo, sono più un danno E mi ha scoppiato Esatto a me pure mi stava scoppiando In mezzo secondo tipo Io mi sono asciutto degli altri Io sono talmente Sono maledettamente in chili di spri Io ho 70% di magic damage in meno E 63% di physical damage in meno Fanculo mi faccio Comunque qualcosa che fa danno è ad Quindi prendete armor Io ho 194 di armor Non basta perchè ti ha shottato No no mi shottato dopo un bel po' Eh vabbè A me golem mi serve un attimino per finirmi la rabadon A me golem mi serve un attimino per finirmi la rabadon Dago che cazzo Ma porno Ha una solitaria tutta di merda A me manca l'ultima item ma guarda come siete messi Eh a me manca esattamente 1900 gold A me io sono full build Io sono full build Per finirmi la rabadon Oh e danno vieni con la mia malagia Io sono full build E' da un po' Sta arrivando un po' di gente Sta arrivando un po' di gente Sta arrivando un po' di gente Bravo Raga io mi sono fatto Facciamoci tutti e cinque l'elisir del ferro Che se stiamo nella scia ci speeda ancora di più Io ho bisogno di quella dell'AP Non posso andare di quella Insomma io vengo Sto dietro a tutti Visto che sono anche quello meno tankato di tutti Oh fuck Oh la sei imploso in mezzo seconda What? L'ho back off of the park Ragazzi io ti pio tutto io Ragazzi basta Io adesso vengo Aspetta Fammi fare il back Io ho tutto Ospetto da voi Vai 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 Allora 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 Sotto tu Ball delivery È stato il ball delivery system Sì sì vai di là è sicuro tranquillo Non succederà nulla se vai di là No 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 please no chase me No please no chase me No please no chase me L'ho colpito tante volte che è il muro Vio Oh finalmente c'ho il gabador A me stavano a 1950 Sono a 900 A me stavano a 1950 E sono a 900 1000 Quanto bello Quanto è bello vedere i tuoi poni che si inculano Quanto è bello vedere i tuoi poni che si inculano Ningetto Ningetto sto vedendo anch'io top Andiamo a top Oh ma c'è qualcuno lì Esatto Andiamo a topperino Vai fai il ball delivery system Guarda il ball delivery system Oh fuck Ma lo hai shottato l'hai visto? Sì No Oh c'è un Akarim che sta venendo in seguito Andiamo a salvare Akarim E' proprio un gran merda Oh c'è un Ezz, c'è un Ezz Andiamo a prendere Ezz Oh fuck Sì non ti riesci ma c'è un Akarim No 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 danno Cacchio c'è più danno di me Oh Come non c'è più danno di te che sono Oh Oh e dai no non si possa fare così Vabbè non c'è più danno di te No lo so ho pianto tutto Ho trenta assist in questo game 27 è stato a tancao tutto quanto io Eh, facciamoci la torre tappa What the fuck Ho shottato la torre Ho shottato la torre Ho shottato la torre Sì ma a me mi serve una mano con i super minions Mi fanno male Io vado a farmi drake Eh via Io vado a via Non fare il back Non fare quel back Che venga a rompermi coglioni Vi mostro la potenza di Akarim Tank No Lasciatemi la farming bot Lasciatemi la farming bot Così mi prendo la litem finale Iniziamo a vincere i game Non lo so Abbiamo il pushing tower che c'è Cioè io tipo ho quasi shottato la torre con la E Fatticolo Il rischio della rovina Vedi come di shot le tu Che succede a un Ezreal quando pusha troppo? Si trova un cavallo dietro Può succedere qualcosa del genere Venite 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 Fermi tutti fermi 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 Arrivo arrivo aspetta aspetta Arrivo anch'io È già morto Ciao No Brrrr 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 Ok Abbiamo vinto GGVP What the fuck Non c'ha capito un cazzo Io sono in arresto E anch'io Venite raga Tanco tutto Sto arrivando Sto arrivando Io andrei vado Sto Brrrr Brrrr Beh sto game di tanta ignoranza è iniziato di merda ma Ma va Oddio L'ho smarmellato anch'io Cvp Quindi c'è Ragazzi Hanno perso contro contro Icarim Beh Icarim è cazzo Cosa vuoi? Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Eh dal Team So è tutto E Ciao alla prossima Vabbè Vabbè